E' un artista che ha l'ansia del passato e vive pensando costantemente ad un presente che si fa futuro e lo fa utilizzando tecniche e materiali differenti all'interno della sua se guardiamo le varie immagini che sfilano sul suo sito o le immagini che arricchiscono e costruiscono il libro d'artista di cui parleremo oggi ci rendiamo conto che il suo è uno sguardo laterale all'interno di quella che è la contemporaneità è uno sguardo che saccheggia continuamente il presente, il passato e costruisce quello che è il futuro dell'arte uno sguardo che mira a bucare lo sguardo stesso dello spettatore e ad invitarlo all'interno di un discorso legato alla magia della nascita dell'opera d'arte un'opera d'arte che è costantemente legata a sua volta a quella che Leonardo da Vinci definiva essere la mano pensante nel suo trattato della pittura ovvero sia un pensiero che è legato, un pensiero fisiologico che è legato alla miocinesia stessa dell'arte della mano che nel momento in cui tocca il foglio, nel momento in cui con la matita tocca la carta comincia a pensare, è il pensiero che si fa a materno, è il pensiero che si fa immagini, è la miseria appunto, se abbiamo dei lavori in corso, è il pensiero appunto che si fa immagini e tant'è che nelle sue opere troviamo non solo l'immagine in sé ma troviamo anche la scrittura una scrittura che lui mutua, proprio anche da Leonardo è una scrittura che va al margine, al di là della pagina e mira a recuperare la realtà è una scrittura appunto che è il pensiero stesso dell'artista che si grammaticalizza è l'io dell'artista che si grammaticalizza, uno degli elementi fondamentali e fondanti del lavoro di Fabrizio Cotonini e non solo appunto il pensiero, il pensare, un artista pensante ma anche l'elogio costante della fantasia, la ripresa di animali fantastici, la ripresa dell'immaginazione, qualcuno nei tempi passati aveva parlato di immaginazione al potere, siamo nel 1968, Herbert Marcuse, immaginazione al potere, l'immaginazione che è essa stessa potere, l'immaginazione che lui dice può salvare anche oggigiorno il mondo, questo appunto è in un certo qual modo un percorso, uno dei tanti percorsi, discorsi proposti da Fabrizio Cotonini, prima di fare qualche domanda a Giovanni Scarzella che appunto è qui con noi, collezionista, giovane collezionista ma già con uno sguardo attento a quello che è l'arte contemporanea, vorrei introdurre appunto il rapporto che c'è tra il collezionista e l'artista attraverso un pensiero meraviglioso messo in campo nel 1872 da Baudelaire, Baudelaire che sentiva naturalmente l'esigenza attraverso una serie di scritti straordinari che venivano pubblicati ogni 15 giorni, Baudelaire era una penna magica, anche una penna che riusciva a ferire soprattutto il borghese del periodo ma per educare il borghese, Baudelaire ebbe a scrivere appunto un piccolo testo intitolato Il pittore e la modella e lui diceva tra il pittore e la modella si instaura un rapporto particolare, un rapporto privilegiato, il pittore inchioda la modella di fronte e comincia quello che è un vero e proprio dialogo, appunto due menti che si incontrano, quasi una forma di amicizia e due menti che si incontrano, quasi una forma di amicizia e il rapporto che c'è appunto tra il collezionista, non sempre ma in alcuni casi e in questo caso, il rapporto che c'è tra il collezionista appunto e l'artista e vorrei passare la parola a Giovanni chiedendo appunto di questo rapporto e lui come collezionista che nasce appunto la sua prima opera è stato un acquisto proprio di un'opera di Fabrizio Godoniero. Grazie Antonello, buongiorno a tutti, sì in effetti è stato proprio così, io nel 2012 ho iniziato una piccola collezione di arte contemporanea e andando ad una fiera a Bologna, una delle più importanti in Italia, tra l'altro senza la minima idea di iniziare una collezione d'arte, cioè proprio andando a fare un giro perché comunque l'arte contemporanea mi è sempre piaciuta e io con la mia compagna andiamo ogni tanto a visitare, a vedere le fiere e quella volta ci è capitato questo episodio di passare alla Prometeo Galleri e vedere queste opere di Fabrizio, questi archetipi, questi pezzi molto particolari, li trovavo ai tempi, oggi li conosco meglio ma allora mi hanno proprio folgorato, cioè è successa quella cosa che deve succedere secondo me al collezionista per iniziare a collezionare, no? Cioè essere rapito dalla bellezza di un pezzo e in quel caso lì non era solo la bellezza tutto in pezzo, era la bellezza un po' dell'intera opera di Fabrizio che mi aveva affascinato particolarmente proprio per parte le cose che hai raccontato tu, ma a me piace tutto appunto questo suo riprendere concetti del passato, riportarli nel futuro, prendere appunti sulle opere in maniera appunto un po' leonardesca, mi piace il concetto del mito che porta dentro le sue opere, mi piace la sua abilità a disegnare che è una delle sue caratteristiche principali perché lui lavora molto col disegno e si nota che dietro i suoi pezzi c'è una ricerca molto importante non soltanto di disegni ma di materiali che utilizza, di storia che sta dietro alle opere che ha prodotto e che racconta se lo ascoltate parlare in una maniera anche molto interessante e io sono passato davanti alla galleria e ho notato questi pezzi e poi ho detto vabbè andiamo a farci un giro per la fiera, siamo stati tutto il giorno in fiera abbiamo visto decine e decine di gallerie di pezzi di artisti e alla fine, alla fine della giornata siamo tornati lì e mi ricordo ho preso due pezzi di Fabrizio che per fare un regalo a Camilla appunto non era un regalo e così abbiamo cominciato, abbiamo cominciato due pezzi lì sono ancora nel nostro salotto, li vedi e appena entri in casa penso ci rimarranno spero insomma per sempre perché rappresentano proprio l'inizio di un percorso che poi è continuato negli anni. Tu con Fabrizio naturalmente hai studiato un rapporto di amicizia però hai anche aiutato Fabrizio in alcuni momenti e in alcuni progetti tra questo proprio nella realizzazione del sito web che abbiamo nelle nostre spalle? Sì beh il rapporto poi è andato avanti perché comunque con Fabrizio ci siamo un po' affezionati reciprocamente, lui da giovane artista io da giovane collezionista ci siamo un po' spalleggiati e supportati a vicenda in questi anni e quindi io nel tempo poi ho preso anche delle altre sue cose finché appunto è nata questa occasione proprio perché io nella mia vita di tutti i giorni mi occupo di digital e quindi mi occupo di fare siti web tra le altre cose e di strategie digitali e da poco ho avviato questa nuova attività che si occupa di comunicazione digitale per il mondo dell'arte e con Fabrizio quindi l'ho aiutato a fare il suo sito che vedete qua alle spalle per aiutarlo in questo percorso anche di posizionamento digitale che per me è comunque molto importante perché aiuta l'artista ad essere conosciuto non soltanto nei circuiti che si frequentano quando qualcuno conosce l'arte ma anche banalmente sul web perché alla fine quando si cerca un artista o si vuole vedere che cosa ha fatto e quali sono i suoi lavori si va sul sito e si cerca di capire qual è stato il suo percorso purtroppo oggi nel mondo dell'arte non c'è una grossa ricerca da questo punto di vista e siamo ancora soprattutto in Italia molto distanti dall'avere un sistema digitale completo e ben fatto per cui il mio l'idea è proprio di aiutare non solo gli artisti ma anche i galleristi e i collezionisti a posizionarsi a livello digitale e quindi con Fabrizio insomma qualche mese fa sono andati online con il suo sito adesso abbiamo una serie di progetti per cercare di posizionare sempre di più il suo nome anche non solo in Italia perché si merita ben di più. E oggi il tuo rapporto con Fabrizio? E appunto l'hai anticipato tu prima, io ho la fortuna e l'onore di essere diventato anche suo amico se mi posso permettere perché abbiamo cominciato poi a sentirci, ci sentiamo spesso per magari un parere, un saluto, un'amicizia, sono andato a trovarlo a casa sua, ci siamo conosciuti con le famiglie quindi è un bel caso, un bel esempio di quando il rapporto nasce da, insomma in questo caso da un acquisto, comunque da un supporto che io ho fatto a lui ed è cresciuto sia a livello professionale ma contestualmente anche a livello personale è un esempio di come ci sia comunque secondo me del vero anche nel mondo dell'arte che è un mondo insomma spesso volentieri fatto di pescecani e di gente che guarda molto all'interesse delle cose, nel nostro caso per fortuna non è così, chiaramente ci sarà anche un giorno l'interesse speriamo, quando i suoi pezzi varranno decine e decine di migliaia di euro in questo momento insomma, personalmente io sono molto contento di questo percorso e di questa amicizia devi essere qui anche, cominciamo a posizionare per bene il sito, lo vediamo, siamo una decina d'anni, e allora adesso Fabrizio ci parlerà di questo suo libro e un libro appunto che in cui si evince la presenza del passato, la presenza anzi del futuro e l'ansia del passato buonasera a tutti, innanzitutto vi ringrazio di essere qui, non vorrei essere troppo lungo aggiungere altro rispetto alla presentazione che ha già fatto Antonello del mio lavoro vorrei magari un attimo presentare questo progetto a cui tengo moltissimo che abbiamo appena fatto uscire, è un libro d'artista che ho realizzato con Parallelo 42 partendo proprio da un dialogo e da una mostra che abbiamo fatto curata con Antonello si è creato questo rapporto con Parallelo 42 e abbiamo quasi per gioco buttato l'idea di realizzare questo libro, questo libro chiamiamolo strano, un libro che si apre, un libro che si gira un libro che forse è il verso, non lo sapevamo neanche noi quando siamo partiti con il progetto diciamo che è un work in progress totale visto che ancora dei pezzi usciranno postumi è un libro che come base a quella di evolversi su sette figure che sono i sette insetti i sette archetipi, i sette simboli che io spesso rappresento nei miei lavori come prima ha detto Antonello il mio lavoro parte anche da una ricerca simbolica, archeologica parte da una riscoperta e da un riposizionamento lui prima diceva questo passato che guarda il futuro, che si trasforma sempre io nella mia ricerca penso spesso che è molto importante per me comunicare con dei simboli che spesso ci sono appartenuti per generazione e generazione e poi sono stati alcuni soltrassati alcuni dimenticati e spesso io lavoro proprio su questo, lavoro sull'oggetto dimenticato e spero che qualche volta qualche spettatore che si trovi avanti la mia opera riesca a subirne sia il fascino ma a ricordarne anche quello che è il valore intrinseco della simbologia